Parliamo di pallavolo, pallavolo femminile e maschile, pallavolo del nostro territorio, del Valdarno, i risultati insieme ad Alferotani di questa stagione che si è conclusa quest'anno. Purtroppo l'anno passato è stata positiva, molte le promozioni, quest'anno invece purtroppo c'è da segnalare molte le retrocessioni. Sì, direi è stata sottosommato un'annata negativa. Basta pensare che l'anno scorso le formazioni valdarnese avevano ottenuto quattro promozioni di categoria. Quest'anno viceversa abbiamo tre retrocessioni, quindi penso che tutto sommato sia un'annata da considerare negativa. Beh, direi che per quanto riguarda, partendo dal basso come categoria dal Pian Disco, ha fatto un'annata tutto sommato buona, ha mantenuto il gruppo preesistente e ha fatto un campionato di mezza classifica con delle giocatrici che hanno onorato veramente la stagione. Per quanto riguarda la nota dolente è anche il volley group Figline, che purtroppo dopo aver fatto una doppietta di promozione, ha fatto una doppietta nella retrocessione, quindi dalla Cia alla Serie D. Ha fatto con le ragazze e con i ragazzi che aveva, ha fatto diciamo il tutto in casa, che molte volte va bene, però quando si comincia a salire il livello, la sticella sale, il livello sale e le giocatrici non sono all'altezza per poter mantenere la categoria. Mentre il Montevarchi, insomma, positiva la stagione? Direi che è una stagione positiva. Da neopromossa ha fatto un ottavo posto in B2, una B2 che ho seguito molto la B2 quest'anno, tutte le squadre, era un livello molto alto. Direi che molte squadre della B2 potevano stare in B1, infatti molte giocatrici erano di livello di B1 e direi che il Montevarchi ha fatto un buon risultato, considerando che era una neopromossa e la campagna acquista è stata risicata, però il gruppo c'era, l'allenatore è stata molto brava sia tecnicamente se tatticamente a gestire il gruppo. Quindi direi che è un'annata favorevole, considerando anche il fatto che con la prima divisione il Montevarchi ha ottenuto anche la promozione in Serie D. Quindi direi che l'annata positiva per eccellenza del Valdarno sia il volley Arno Montevarchi. Tornando a Filine, c'è la retrocessione anche del Valdarno Volley? Sì, una retrocessione del Valdarno Volley che personalmente anche dispiace perché sono stati quattro anni da direttore sportivo del Valdarno Volley in cui ho vissuto delle sensazioni e delle emozioni stupende con la squadra che è da me costruita insieme a tutta la società. Quest'anno hanno fatto una scelta diversa, io ho dato le dimissioni dal direttore sportivo hanno fatto delle scelte diverse, capisco anche il momento economico non favorevole però secondo me sono state fatte scelte sbagliate sia da un punto di vista di allestimento della squadra con giocatrici cosiddette top player come qualcuno ha definito che di top player non avevano niente per la categoria, con un mix di giovani secondo me troppo impreparate per la categoria. In più vorrei una nota più negativa secondo me e poi la conduzione tecnica Marco Lapi che secondo me non è un allenatore adatto alla categoria soprattutto per lavorare con le giovani e non riesce a gestire certe tipologie di gruppe soprattutto da un punto di vista tecnico. Forse la svolta del Valdarno Volley poteva essere a dicembre con il cambio della guida tecnica e forse poteva essere un'altra storia perché ho visto molte partite anche della B1 perché quest'anno avendo il mio anno sabbatico ho fatto una scorpacciata di gare anche per rimanere un po' nel giro, per rimanere a conoscenza di quelle che sono le giocatrici della categoria. Devo dire che secondo me il Valdarno Volley indipendentemente da tutto poteva far meglio.